Mentre a qualche chilometro di distanza si esultava per il trionfo Ferrari al Gran Premio a Monza, Meda stava per vivere anche il suo sentito appuntamento di corse tra le strade della città. Domenica è stata infatti la giornata della gara delle macchinine a pedali tra le quattro contrade partecipanti al Palio Medese. A vincere è stato il rione di San Juan, seguito dal rione della Fameta al secondo, terzo e quarto posto. Un momento anticipato nel programma rispetto agli scorsi anni, ma anche quest'anno fortemente partecipato dalla città. Fino alla gran sfilata e alla proclamazione del rione vincitore di domenica prossima, il Palio di Meda accompagnerà la città per tutta la settimana con vari giochi ispirati al tema del viaggio e delle esplorazioni. Quest'anno la festa di Meda cade di domenica, quindi ha un po' rivoluzionato quello che è il calendario della manifestazione. La folla non è mancata anche qui a Meda, una partecipazione altissima per quanto riguarda la gara che è partita alle 18.10 circa. Un appuntamento che unirà anche quest'anno tradizione, eventi per tutti e cibo. È stata una bellissima gara, ringrazio gli sponsor che hanno permesso tutto questo e soprattutto quest'anno Regione Lombardia che ha creduto nel Palio di Meda con il Consiglio regionale, dimostrando appunto il riconoscimento di Palio storico a quella che è la nostra manifestazione e questo non ci fa che gran piacere. È una bellissima iniziativa storica che mantiene la sua tradizione. Dagli anni 70 questo Palio entusiasma e anima la città di Meda con le sue quattro contrade che si danno da fare per rendere viva, vivissima una città che è bellissima da vedere, così piena di persone. Un buon inizio per un Palio che andrà avanti tutta la settimana.